ben trovati eccoci di nuovo qui per un nuovo incontro dedicato alle parole sul tatami una breve e spero sempre interessante analisi di quelli che sono i termini che più spesso utilizziamo durante la pratica della nostra disciplina e un'analisi anche del significato non sempre evidente e immediatamente comprensibile che c'è dietro agli ideogrammi con cui queste parole vengono scritte l'incontro di oggi lo dedico a lo zon su hong zon su è letteralmente ma non esattamente proprio letteralmente vedremo perché l'arte di massaggiare il piede non va concluso non va confuso con la riflessologia plantare che è una disciplina occidentale ma è un'arte di origine cinese vecchia di migliaia di anni che io ho la fortuna di imparare grazie agli insegnamenti del maestro severino maestriello che il direttore tecnico della wudan fu style academy nonché allievo del maestro ming wong che è rappresentante della centesima generazione di questa scuola che trasmette quest'arte e che quindi insomma la volontà e la possibilità di trasmetterla anche a noi ovviamente è come facile immaginare una disciplina simile così vecchia così antica così ricca di influssi non può essere racchiusa in pochi minuti di video soprattutto fatti da chi come me non ne ha una conoscenza così profonda però alla stessa maniera è interessante analizzare quelli che sono i significati dei caratteri appunto che esprimono questo questo termine questa disciplina è come vi dicevo normalmente questa viene tradotta con come arte di massaggiare il piede onzo su sono tre caratteri a loro volta composti da due o tre radicali e vedremo che via via che noi analizziamo questo significato i vari caratteri avremo diverse credo sorprese primo carattere è on in cantonese o an in cinese e viene tradotto come massaggiare ma anche come premere o spingere come vedremo la maggior parte di questi caratteri a diversi significati alcuni abbastanza collegati tra di loro altri come dire un pochino meno facilmente collegabili in particolare appunto on on a tre vari significati spingere con le mani premere come per esempio premere un pulsante ma anche mettere da parte trattenere verificare qualcosa principalmente un testo quindi fare delle correzioni di bozze oppure fare commenti scrivere delle note questi due magari ecco appunto questi ultimi significati possono essere non facilmente collegabili al significato di spingere però se ci pensiamo per esempio fino a poco tempo fa cosa si faceva per lasciare una nota mettere un commento beh magari si premeva una puntina da disegno con un foglio su una tabella quindi vedete che anche qui no abbiamo questo significato lasciare una nota una correzione sul testo cosa si faceva in passato si tracciava una linea con una penna con una matita colorata quindi si in qualche modo lasciava un segno si premeva si lasciava una traccia quindi vediamo che insomma abbiamo già tutta una serie di significati che possono essere collegati tra di loro on on continua usare sempre le due edizioni cantonese e cinese cinese perché la lingua originale cantonese perché è la lingua del maestro ming wong che la trasmette quindi per rispetto e correttezza nei suoi confronti utilizzo questo questo doppio modo di lettura on on è un composto fono semantico composto realizzato appunto da due radicali il primo e mano e il secondo si legge tranquillo mano vediamo si legge sao in cantonese o show in cinese e si traduce appunto come come mano un termine abbastanza noto specialmente praticanti di arti marziali chi fa tai chi è abituato al tui show per esempio insomma quindi mani appiccicose mani a contatto è facilmente individuabile anche soprattutto vedendo qui il la serie dei dell'evoluzione del carattere è un pittogramma quindi una rappresentazione proprio visiva di una una mano aperta alla linea superiore è appunto il dito medio piegato e le quattro linee di lato sono le altre quattro dite essendo un pittogramma il primo significato è esattamente quello di rappresentare l'oggetto appunto riprodotto quindi una mano ma da questo vengono poi collegati altri 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 significati per esempio è un radicale che viene usato anche quando si vuole indicare una persona esperta in qualche attività ovviamente in passato le attività erano principalmente manuali quindi lì dove una persona fosse abile con le mani appunto veniva indicato veniva usato il termine il radicale della della mano alla stessa maniera veniva usato questo radicale anche per indicare il praticante di una qualsiasi arte o disciplina o attività quindi è un po il re finale il suffisso che noi abbiamo quando indichiamo pescatore scultore eccetera quindi mettendo all'inizio il nome diciamo l'indicazione dell'attività praticata è alla fine il re che indica il praticante in più viene usato anche nel nel modo per indicare qualcosa di conveniente o a portata di mano quindi vediamo che qui troviamo qualche cosa diciamo che si rifà anche i significati che abbiamo noi e anche qualcosa di portatile quindi un telefono cellulare un manuale quindi un libro da tenere a portata di mano quindi tutto quello che in maniera diretta o in diretta ha a che fare con le mani vedono presente questo tipo di radicale secondo secondo radicale secondo carattere che noi troviamo appunto nell'indicare on o an è il carattere il in cantonese o an in cinese che noi traduciamo come tranquillo calmo in questo caso noi abbiamo un significato che anche qui diventa ampio perché appunto quello di base che vi ho detto calmo pacifico tranquillo silenzioso quindi anche in senso come dire allusivo dormire sogni tranquilli oppure al contrario essere a disagio essere disturbato quindi si usa anche in una costruzione diciamo antifrastica viene usato anche in termini come dire più ampi quindi per indicare qualcosa di comodo per essere a proprio agio sentirsi al sicuro essere in salvo e anche nel significato di calmare calmare i nervi portare pace tra le persone che si stanno litigando ancora sentirsi soddisfatto quindi essere in pace con se stesso ancora trovare un posto per piantare un albero o per edificare una casa adattarsi installare qualche cosa ospitare amare insomma vediamo che ha tutta una serie di significati molto ampi che però in in qualche modo si riaflacciano sempre al essere comodi essere tranquilli sentirsi a proprio agio e il significato lo cogliamo ancora meglio nel momento in cui vediamo da dove deriva questo carattere questo carattere come dicevo ideogrammatico che mette insieme due due radicali quello superiore che indica il un tetto riproduce un tetto e per esteso una casa e la parte inferiore rappresenta una persona in ginocchio solitamente viene individuata come una una donna seduta sui talloni dentro casa quindi chiaramente questa posizione veniva assunta solamente da una persona che si sentisse a proprio agio tranquilla che non temesse nessun assalto e a maggior ragione viene indicata una donna appunto intenta alle faccende alle faccende di casa quindi molto spesso vedremo che in oriente l'idea di casa viene sempre associata alla donna non è una questione come dire di discriminazione di genere è proprio perché in oriente non solo in oriente la donna veniva rappresentata proprio come la padrona di casa e quindi a maggior ragione una persona tranquilla una persona che sta all'interno della sua casa che può stare in ginocchiata e svolgere le sue faccende senza essere disturbata una immagine che risulta ancora più evidente se vediamo quello che è il l'evoluzione anche in questo caso di questo carattere come vediamo da sinistra verso destra soprattutto l'immagine della casa di queste di questo tetto spioventi con le due pareti è molto evidente e in qualche modo caratterizza proprio come dire chiaramente quello che è la costruzione grafica di questo carattere secondo carattere zon in cantonese e zong in cinese che viene tradotto come tallone ma ha poi anche altri significati come arrivare seguire qualche cosa che è sempre legata comunque da una parte allo spostamento e specificamente al piede vedremo anche in questo caso qualche interessante analisi di questo carattere perché perché anche in questo caso abbiamo un composto fonosemantico da una parte a parte significante appunto è il carattere che indica il piede e poi abbiamo una parte che indica la pronuncia la fonetica vediamo che nel nella forma diciamo antica era un carattere molto molto complesso soprattutto nel primo carattere qui a sinistra è abbastanza evidente la parte diciamo che in qualche modo viene riprodotta ancora nella versione attuale nella nel carattere di destra il carattere era molto più complesso e raffigurava proprio tutta una serie di altri significati ma appunto vediamo da dove viene fuori questo questo carattere abbiamo appunto il carattere di piede radicale di piede e quello a destra indica l'essenza quindi il tallone viene in qualche modo considerato l'essenza del piede e in qualche modo una parte che indica il tutto per tutta una serie di motivi maggior parte delle volte il nostro peso è principalmente sui talloni è considerata una zona molto importante sia nella nella medicina tradizionale cinese uno per tutti il punto bl 60 con l'un che appunto prende il nome da uno dei monti sacri della della cina come ci ricorda spesso il maestro severino maestrello in passato la pratica delle discipline interne veniva indicata come andiamo a praticare con l'un quindi indicando proprio il lavoro sul termine d'achille sul tallone come punto principale dove racchiudere dove indirizzare le nostre pratiche e anche in occidente l'indicazione del famoso tallone d'achille come punto debole ci dà l'idea di quanto questo punto del del piede a volte purtroppo spesso trascurato per seguire dettami della moda sia in realtà importante nella nella pratica dell'on zon su ma non solo come vi dicevo questo carattere composto da due radicali e radicali di piede che noi leggiamo come zuc in cantonese e zu in cinese indica specificamente il piede come parte anatomica dico questo e vedremo dopo perché quindi sia come piede umano come la zampa di un animale come la gamba di un tavolino quindi tutto quello che è legato a questa parte anatomica e per esteso tutto quello che in qualche modo sono le azioni legate al piede quindi camminare calpestare qualche cosa ma anche fermarsi e qui troviamo poi tutta una serie di altri significati collegati quindi soddisfare averne abbastanza un qualcosa di abbondante perché perché ovviamente in passato lì dove c'erano grandi migrazioni dovute alla ricerca di fonti di sostentamento ci si fermava dove si trovava qualcosa di sufficiente di soddisfacente che fosse appunto in quantità sufficiente fosse abbastanza per assicurare la sopravvivenza e quindi la l'idea del piede che si ferma lì dove trova qualche cosa di soddisfacente vi dicevo di questo carattere e vediamo qui che ha la particolarità di essere a sua volta composto da due parti un quadrato che è quello che viene normalmente usato proprio un pittogramma per indicare la bocca ma anche la pancia e qui parliamo di una pancia di un addome prominente che in passato come oggi indica benessere soddisfatti avere di che mangiare e bene e poi il radicale che anche in questo caso indica piede è un radicale che noi troviamo anche appunto più spesso nella accezione simbolica del piede quindi appunto nei significati di camminare andare ma anche fermarsi arrestare qualche cosa o qualcuno è un carattere che i marzialisti riconosceranno alla base del carattere di v o v che indica tutto quello che è marziale quindi nel nell'impiego del carattere come lo stiamo vedendo adesso all'interno dell'on zon su quindi nel carattere zuc o zu abbiamo un piede che sostiene una pancia o una bocca quindi ancora di più come vediamo anche nella sua come dire immagine più antica vediamo proprio una bocca o una pancia che viene sostenuta dal piede quindi proprio l'indicazione del piede e ancor di più del tallone nella sua primaria funzione anatomica quella di sostenere di dare sostegno sia fisico che a volte anche simbolico se vogliamo a tutto il corpo secondo carattere kung in cantonese o zong che indica appunto l'essenza la parte principale di qualche cosa è anche in questo caso altri significati più o meno legati a questo qui quindi qualcosa di pesante qualcosa di importante qualcosa di grave qualcosa di serio considerevole soprattutto risperito a una cifra di denaro insomma qualche cosa che va tenuto in buona considerazione non carattere questo come vediamo composto da tre radicali il carattere radicale di uomo carattere radicale di borsa su cui ci soffermeremo un po più tardi e il carattere radicale di terra quindi cos'è l'essenza beh questo per questo radicale viene indicato come un uomo che porta una borsa che che viene poi poggiata anche per terra quindi vediamo anche le immagini che in questi giorni purtroppo ci sta trasmettendo la televisione con persone che scappano dalla guerra dall'ucraina quando noi fuggiamo davanti a un pericolo una guerra un terremoto un un incendio cosa facciamo portiamo via di casa poche poche cose e portiamo via quello che per noi è più importante spesso si vede magari persone che hanno dei bambini piccoli neonati che lasciano gioielli lasciano oggetti preziosi e portano via pannolini portano via del latte in polvere perché in quel momento è più importante avere dei pannolini o delle medicine o quanto serve per alimentare un bambino piuttosto che portare via degli oggetti preziosi quindi l'essenza ecco quello che noi porteremmo con noi le famose dieci cose che porteremmo su un'isola deserta rappresentata appunto vedremo dopo meglio da un pacchetto la classica modalità del bagaglio orientale quella che tra l'altro si usava anche dalle nostre parti fino a poco tempo fa quindi un telo hanno dato agli estremi che diventava poi un comodo bagaglio da portare sulla terra proprio perché poi questo per indicare qualche cosa una borsa che poteva essere anche poggiata quindi qualche cosa di pesante di importante vediamo nella sua rappresentazione antica a sinistra il carattere più a sinistra è sicuramente meno facilmente individuabile un po di più lo è il secondo il terzo anche qui vediamo un pochino difficile da individuare ma vediamo la parte centrale questo cerchio con le fasce che poi ritroviamo anche nel nei caratteri un po più a destra c'è sempre questa immagine di un un pacchetto un qualche cosa di contiene qualche cosa di importante quindi carattere di uomo yan in cantonese o il carattere orren in cinese è facilmente individuabile indica un uomo una persona un individuo lo troviamo molto spesso in tantissime parole ed è un pittogramma che rappresenta appunto un uomo con le gambe divaricate molto essenziale ancor più evidente in questa diciamo carrellata delle varie modalità di scrittura nel tempo indica anche il padrone di casa il proprietario quindi un uomo in tutta una serie di significati e ritroviamo questo significato anche appunto nel carattere dung o dong che noi abbiamo visto appunto prima come borsa ritroviamo questo carattere anche nell'indicazione per esempio del punto cardinale est adesso qui c'è una grande come dire discussione chiamiamola così tra gli esperti perché da una parte qualcuno sostiene che sia effettivamente null'altro che un prestito si è preso un carattere lo si è utilizzato per un altro significato senza grandi motivi o comunque per motivi che ad oggi sono sconosciuti dall'altra parte qualcuno individua in questo carattere un pittogramma in cui per indicare appunto in particolare il carattere il punto cardinale est c'è il sole rappresentato dal quadrato con la croce centrale che sorge e viene visto attraverso i rami di un albero che è rappresentato invece appunto dal dal resto del carattere che è una visione sicuramente plausibile e che possiamo ritrovare un po anche come vediamo qui nelle varie rappresentazioni grafiche antiche di questo carattere se quelle le prime tre verso sinistra ci rimandano molto più facilmente intuitivamente all'idea appunto di un carattere di una borsa di un pacchetto di un di un fagotto hanno dato po più evidente magari invece nei carattere verso destra anche la seconda possibilità quale sia la verità ad oggi non lo sappiamo probabilmente non sapremo mai probabilmente sono come dire sicuramente tutte e due le possibilità plausibili probabilmente sono come dire c'è stato qui un incrocio che le ha rese l'una influenzata dall'altro quale che sia insomma la realtà noi adesso lo prendiamo con con il beneficio di inventario terzo carattere tou in cantonese tu in cinese terra terreno anche questo un carattere molto noto specialmente praticanti di medicina tradizionale chinesi o di arti marziali perché per esempio uno dei cinque elementi del buxing terra terreno anche questo è un pittogramma come vediamo qui nella sua rappresentazione nelle sue varie rappresentazioni antiche non facilmente individuabile però perché rappresenta rappresentava in passato un pezzo d'argilla posto su un tornio da vasaio una origine molto più evidente nei primi due caratteri a sinistra che poi mano a mano si è stilizzata come vediamo andando verso destra sino a dare l'idea invece di una croce che rappresenterebbe anche un uomo con le braccia aperte poggiato sulla linea orizzontale inferiore che rappresenta appunto il terreno quindi la terra è qualche cosa su cui noi ci poggiamo terzo carattere su in cantonese su in cinese indica arte tecnica qualche cosa di che richieda una certa abilità è un carattere noto anche praticanti di discipline marziali giapponese con la lettura invece jutsu perché appunto è alla base di tutte le discipline marziali come il jujutsu kenjutsu eccetera insomma quindi abbastanza noto un po meno facile da individuare è la sua origine perché anche qui abbiamo un carattere fonosemantico composto da due parti abbiamo la parte semantica che dà il significato e magari non facilmente collegabile col significato finale che è quella di via sentiero o strada e poi la parte a destra che indica invece un cereale glutinoso miglio sorgo grano oppure riso carattere a sinistra appunto quello che gli dà il significato è in cantonese xing o hang in cinese via sentiero strada questo significato è più facilmente individuabile nella forma antica del del carattere che rappresentava appunto un incrocio di strade come vediamo appunto nella nella sua rappresentazione più antica quindi proprio due strade che si incrociavano in origine era un carattere simmetrico poi nel tempo è stato semplificato in maniera asimmetrica per cui abbiamo un lato sinistro diverso dal lato destro non ovviamente non sappiamo il perché di questa semplificazione ne prendiamo atto così è e così poi questo carattere che in origine era uno appunto era un unico pittogramma è stato poi diviso in due quindi abbiamo parte sinistra parte destra a volte utilizzate anche da solo specialmente la parte sinistra usata spesso come come radicale mentre la parte destra trova giusto un uso come dire occasionale molto raramente viene implicata a solo se no come in questo caso ora l'altro carattere appunto è che rappresenta i cereali cereale glutinoso viene letto su in cantonese su in in cinese e rappresenta anche qui un pittogramma lo vediamo ancora meglio nel che qui nella sua rappresentazione antica rappresenta una una pianta c'è proprio il radicale anche qui di legno di pianta anche in questo caso abbastanza noto a chi ha dimistichezza con principi dei cinque elementi che compongono l'universo e il puntino in alto a destra rappresenterebbe il chicco il seme un po quella che è l'essenza del della pianta stessa della spiga stessa la domanda che sorgerebbe come si vuol dire spontanea a un osservatore più attento è perché nel carattere che rappresenta arte e tecnica il carattere che indica la pianta è al centro rispetto ai due caratteri che originariamente indicavano una strada un incrocio e che quindi erano uniti bella domanda a questa domanda potrebbe dare risposta un'altra interpretazione di questi caratteri dove il carattere a sinistra andrebbe ad indicare più persona cioè il che viene composto dal radicale che viene usato insieme ad altri per indicare l'uomo la persona quindi la linea inferiore verticale e la prima linea che c'è sopra diagonale indica normalmente uomo come radicale in caratteri composti la seconda linea diagonale superiore indicherebbe più uomini e come se fosse lo stesso carattere due caratteri sovrapposti tra di loro e mentre la linea verticale si sovrappone risulta sfalzata la linea diagonale superiore quindi più persone carattere centrale in questo caso indica sempre una pianta ma in questo caso una pianta medicinale dove il puntino in alto a destra indicherebbe invece un sasso perché perché di fatto questo il sasso che sopra la pianta sta ad indicare una delle prime lavorazioni diciamo importanti compiute dall'uomo cioè quella di pestare piante fiori rami foglie per ottenerne dei principi poi da impiegare a scopo farmaceutico con decotti con tisane con impiastri eccetera è una pratica che abbiamo ancora oggi nell'erboristeria e nella farmacia si usano i mortai con i pestelli in cui appunto meccanicamente viene tritata viene sminuzzata viene pestata una pianta una parte di essa per ottenerne poi un composto da utilizzare a scopo farmaceutico e carattere poi a destra indica invece il significato di praticare con costanza quindi qualcuno lo legge come una sorta di rappresentazione un pittogramma di una zappa un martello un piccone quindi un oggetto che comunque deve essere utilizzato non con un per un colpo solo ma per molto tempo per ottenere un risultato quindi per indicare tutto quanto richiede un lavoro che duri per un certo tempo quindi secondo questa lettura che cosa viene espresso che cosa esprime l'arte un insieme di persone di uomini collegati tra di loro quindi indicando proprio un lignaggio questo collegamento quasi verticale un'esperienza che viene trasmessa di generazione in generazione per trasmettere le conoscenze necessarie per ottenere per esempio appunto un prodotto farmaceutico da una pianta medicinale quindi un lavoro che va compiuto non una tantum ma in maniera costante quindi l'arte la tecnica è qualche cosa che viene trasmesso che richiede applicazione che richiede attenzione che richiede dedizione per ottenere un risultato in particolare di benessere vedete quindi che tutta questa serie di significati al di là di poter essere considerate come dire un un vezzo intellettuale ci danno molto più chiaramente secondo me in maniera molto più interessante il significato ultimo in questo caso di onzon su quindi noi lo traduciamo arte di massaggiare il piede ed è ovviamente giustissimo ed esatta questo questa interpretazione ma nel momento in cui ci soffermiamo in ciascuno dei significati di questi caratteri otteniamo veramente una ricchezza di particolari molto interessanti quindi partendo dalla fine sicuramente ci ricorda che questa tecnica ci arriva da una catena di trasmissione appunto di centinaia di generazioni che si sono succedute migliaia di anni che si sono succedute che va a lavorare sul piede ma sull'essenza del piede quindi cercando anche nell'operatore l'idea di non qualche cosa di superficiale ma qualche cosa che deve mirare appunto all'essenza la parte importante e alla stessa maniera simbolicamente essere consapevoli che andiamo ad agire in maniera come dire significativa interessante andiamo intervenire sulla salute di chi riceve il trattamento quindi essere consapevoli che stiamo agendo per il suo bene e quindi non in maniera distratto superficiale ma sempre attenta e consapevole e il primo carattere ci ricorda che questo deve essere fatto in maniera tranquilla quindi senza agitazione senza che le emozioni di quanto è avvenuto prima di effettuare il trattamento quanto pensiamo avverrà dopo ci possono influenzare come la maggior parte di tutte queste discipline noi dobbiamo cercare quando siamo gli operatori ma anche quando riceviamo questo massaggio di essere nel qui ed ora di abbandonare tutto quanto ci distrae ci coinvolge ci ci porta altrove dal da dove siamo e vivere il momento cercare di essere presenti cercare di vivere al meglio questo momento questa chiacchierata andrà oltre le mie previsioni ma vedete c'è tantissimo da dire abbiamo solamente sfiorato la superficie del significato di questi caratteri spero comunque che tutto ciò sia stato interessante ringrazio il maestro severino maestrello che è sempre prodigo di consigli indicazioni attraverso lui ringrazio il maestro ming wong capo scuola del dell'on zon su che continua a dedicarsi alla trasmissione di quest'arte io vi ringrazio per la vostra attenzione se volete risponderò con piacere ai vostri commenti alle vostre domande se ne sarei in grado e vi do appuntamento al prossimo video grazie e alla prossima